Un solo gesto per fare due cose buone insieme, contribuire al recupero di una meravigliosa chiesa del 600 ed aprire le porte della speranza a centinaia di ragazzi di Napoli e delle periferie. Con l'Accademia ad alta voce potranno infatti coltivare il loro talento artistico e professionale, avere un'opportunità in più. E allora meridonare.it per l'Accademia della Chiesa di San Potito. Basta un click per scrivere un futuro diverso. Grazie a tutti.